Ciao, ti ho raccontato di quando mio papà mi ha fatto uscire da solo per la prima volta al mare e non ho combinato casini, sono rientrato presto e tutti felici. Quindi mi sono meritato la fiducia della famiglia e da quella sera sono sempre uscito senza mai combinare dei casini particolari. Qualche piccolo casino lo facevamo. E niente, noi facevamo gli scherzi, un'abitudine che mi è rimasta poi anche gli anni successivi. Gli scherzi, non so perché, io non mi sono mai ubriacato, non si tranne una volta, non ho mai fatto danni a nessuno, non ho mai trattato male a nessuno, però gli scherzi mi piacevano e così combinare qualche piccolo guaio, piccolo, piccolo, perché gli scherzi vanno bene se sono innocenti, se sono di limitata intensità. Allora, uno scherzo che facevamo tanto lì al mare, a Torre Pereira, vicino a Rimini, era il tiro alla fune, cioè ci mettevamo in due da un ciglio della strada e altri due dal ciglio della strada, magari una strada minore, quelle stradine che ci sono all'interno dei paesini della riviera, no? C'è il lungomare, poi c'è una stradina ancora più interna, parallela e altre magari due o tre più interne, fino ad arrivare alla ferrovia, no? Ecco, noi andavamo nella strada che era addirittura dietro alla ferrovia, quindi passavano pochissime macchine, però ne passavano. E facevamo il tiro alla fune finto, cioè ci mettevamo in due da un lato e in due dall'altro lato a far finta di fare il tiro alla fune, ma non c'era la fune. Allora, le macchine arrivavano, vedevano che c'erano delle persone ai lati della strada che facevano qualcosa, si avvicinavano, mettevano gli abbaglianti e poi si rendevano conto che facevamo il tiro alla fune e frenavano, inchiodavano. Poi si fermavano e dicevano, ma vi sembra il caso di fare il tiro alla fune in mezzo alla strada? E noi? Ma che fune? Non c'è nessuna fune? È uno scherzo. E allora diciamo, nove su dieci la pigliavano sul video, ma ai vostri tempi io queste cose non le facevo, e vabbè facevi qualcos'altro. E quindi il tiro alla fune è uno scherzo simpatico. Una volta invece, nel tiro alla fune, è incappato un tipo enorme. Non ci stava neanche nella macchina, io me la ricordo ancora la macchina, era una 1100 giardiniera blu col portapacchi sopra. Lui non ci stava dentro, e la 1100 era grossa come macchina, non ci stava dentro. Si è fermato, è sceso, c'è corso dietro, voleva picchiarci. Ah, madonna, calmati, esagera, cosa abbiamo fatto poi? E insomma, alla fine noi siamo scappati, e lui niente, è risalito sulla macchina e è andato via. E abbiamo saputo che era un certo bilancioni. Adesso non ci saranno più, penso, perché era già di una certa maturità allora, era 50 anni fa, 40 anni fa, e voleva farci il culo. Vabbè, forse ci aveva ragione, forse eri esagerato, te la prendi con dei ragazzini, gli corri dietro, e quando mi prendevi cosa fecevi? Mi davi due schiaffi? Poi finivi nei guai, eh. Quindi bilancioni, ti è andata bene che noi siamo scappati e non ci hai preso. Un altro scherzo, tutti scherzi stupidi, eh, ma scherzi che fanno ridere i ragazzini di 14 anni. Un altro scherzo che facevamo, ma lo facevamo di giorno, considera che stavano arrivando i primi marocchini, che da noi erano sconosciuti, dove arrivavano? Non arrivavano in città, arrivavano al mare, a cercare di vendere i tappeti. Allora vendevano i tappeti, le tovaglie, i tappeti. E loro cosa facevano? Mi ero preso un tappeto, me l'avevo messo sulla testa, e mi ero seduto su una panchina sul lungomare, di giorno. E cominciavo, io volevo stare in Italia, Italia, Italia bella Italia, vendo tappeti. Facendo un scemo così, no? E, oh, si era formato un capanello di persone. Adesso non farebbe più effetto. Perché? Che effetto fa un marocchino che vuole vendere i tappeti? Tra l'altro, 50 anni fa vedeva i tappeti, adesso ancora con la valigetta davanti al supermercato a vendere, cazzate. Cioè, non si sono evoluti in 50 anni di esportazione, di migrazione. Vabbè, questo è un pensiero che non c'entra niente con gli scherzi. E niente, allora non c'erano le telecamere, sì, c'erano i video 8, le cineprese, così, ma noi non ce l'avevamo, per cui non ho testimonianze di questa cosa. eravamo 4 o 5 amichetti che facevano questa cosa. Ma si saranno fermati almeno, ci dico, 20-30 persone. Oh, un altro scherzo invece, sto qui un po' più bastardo, un po' più cattivello. E cosa facevamo? Avevamo notato che se tu passeggi, cazzeggi, passeggi sul lungomare e vedi una pallottola di carta per terra, cosa fai? Gli dai un calcio. Ti senti calciatore, gli dai un calcio. Così. Ma perché nessuno la salta, la gente la prende a calci. Non so perché, non so chi ha avuto l'idea, non so chi l'ha inventata. Fatto sta che ci siamo trovati poco prima dell'uscita serale. Siamo andati sempre sul viale dietro la ferrovia. Abbiamo preso un giornale. Fa un po' schifo la cosa, eh? Ve lo dico prima. E abbiamo fatto una cacca. Tutti, tre o quattro amici, dentro a questo foglio di giornale. Poi, facendo attenzione a non toccarla, l'abbiamo appallotolata. Penso che schifo. Ce la siamo portata dietro. Da fuori non si vedeva niente. E l'abbiamo messa in mezzo al marciapiede. Marciapiedi, comunque, anche abbastanza larghi, no? Noi fermi così, come il papero Piero, no? Cioè, come con l'aria innocente, fermi sulla panchina a guardare. E noi arriverà, arriverà. Guarda, stiamo qua due ore, ma arriva. E intanto uno va a pigliare un ghiacciolo, un altro va a pigliare un cono, con la panna, mega panna. Un altro dice, devo fare una telefonata. E andava alla cabina. Insomma, si era rimasto di tre ore, fino a che arriva lui. Omone, anche in quel caso. Non era bilancione, era molto più giovane. Un ragazzone grosso, padre di famiglia, con un bambinello, aveva avuto due anni, sulle spalle, no? Aveva le ciabatte. Me la rido ancora adesso. Ha visto la palla di carta a dieci metri di distanza. Gli ha detto il bambino, guarda, Matteo, non lo so, guarda, guarda papà che bel calcio che gli dà. Guarda, questo bambinello, qua non capiamo un cazzo, guarda. È arrivato, ha visto la palla di carta, gli ha dato un calcio bestiale, la palla, partendo via, si è disintegrata, ha schizzato, merda, dappertutto. so che fa un po' schifo, ma va bene. Lui si è riempito il ditone del piede e lo spazio che stava tra, il ditone e la ciabatta, pieno. Ha cominciato a bestemmiare come un turco. Non so quante ne abbia dette. È andato avanti tre, quattro minuti, finché è arrivata la moglie, ma calmati, calmati, se becco quel bastardo che ha cagato dentro il giornale, lo annego. Noi, zitti, noi ridevamo, però non eravamo i colpevoli, cioè, non era dimostrabile che fossimo i colpevoli, perché se tu fai una scena del genere e vedi schizzare merda ovunque, tu hai tutto il diritto di ridere, non era detto che fossimo noi colpevoli. Infatti lui non sospettava di noi, però, ragazzi, cioè, memorabile, a 45 anni di distanza, 50 anni, io ancora me lo ricordo. PAM! Porco qui, porco là, col bambinello sopra. Niente, ecco, poi cosa facevamo? Giocavamo... Ah, poi sì, questa, eravamo forse qualche anno più vecchio, qualche anno più vecchio, erano usciti, le sale gioche, giochi, erano usciti i primi giochini elettronici, no? Prima ancora del, no, sì, è uscito il Pac-Man, per cui è facile risalire a quali anni sto parlando. C'è un altro giochino che però non era elettronico, ma allora, per noi era bello, era un giochino dell'automobile, praticamente tu guidavi un volante che guidava un'asticella di metallo con un'auto stilizzata vista dall'alto e c'era un video che scorreva, era sempre in curva, e allora tu dovevi schivare con la tua macchina le altre macchine e se no accident. E io le prime volte dicevo, ma perché schivano accident e non incidente? E poi mi hanno spiegato, guarda che accident in inglese vuol dire incidente, vabbè, quel che l'è. E allora niente, ci divertavamo con le 100 lire, con le 50 lire, e invece quando oltre al Pac-Man era uscito Donkey Kong, il primo giochino di Mario, quello che allora non si chiamava ancora Mario, era, almeno noi non lo sapevamo che si chiamasse Mario. E sale la scaletta e poi da sopra c'era lo scimmione che buttava giù le botti, no? E se ti beccavano morivi, no? E cosa succedeva? Che se tu andavi al mattino presto nella sala giochi, tipo le 10 quando aveva aperto da pochi o il bar che aveva la macchinetta, tu vincevi, non è che vincevi niente, avevi la possibilità di mettere il tuo nome tra i vincenti, perché dopo alla sera la macchinetta non memorizzava, per cui era sempre vergine il giorno dopo, per cui i primi che giocavano erano di sicuro vincenti. allora io andavo e vincevo per forza e eravamo i primi 3-4 che giocavamo e mettevamo il nome, solo che si poteva mettere un nome corto, tre lettere. La prima volta dicevo, mettevo il nome Cic, di Ciccio, no? Due o tre volte, poi Ott, vabbè, poi per farmi riconoscere di più Otto, anziché Otto, oppure Otto, Otto. E poi ci siamo detti, ma perché essere così così eleganti nello scrivere il nome dei vincenti? E allora scrivevamo Caz, Kul, Fig, poi c'è Caz, Kul, Fig, ma no, erano le tre parole più gettonate, no? Qua succedeva che poi godavamo nell'aspettare che arrivasse altra gente e che vedeva lo score finale e leggeva Caz, Caz, Fig, Caz, Caz, Kul, Caz, affinché una volta un padre ma non si vergognano queste persone a firmarsi in questo modo e un papà con un ragazzino basta, l'abbiamo fatto tre, quattro volte e lo scherzo era finito e come spesso dico gli scherzi non vanno ripetuti a lungo una volta che l'hai fatto due, tre, quattro volte se non sei creativo e non sai inventarti degli scherzi nuovi puoi anche spararti ok? Queste erano le mie avventure marittime a Torre Pedrera sempre col cono mega mega panna montata gigantesca ciao a tutti